La figata delle nuove generazioni è stata che hanno distrutto tantissime regole inutili e hanno detto, fai sta cosa, perché? Perché è figa! Ma eravamo quattro giovani un po' matti che avevano questo sogno del rap. Noi eravamo tutti dei casi un po' sparsi, invece nel 2016 sono arrivati tutti insieme. C'era una grinta in quell'anno. Noi tutti ci conosciamo da quando sono piccoli. Uno, due, due! Da lì poi quasi non abbiamo mai più smesso di migliorazione. C'era voglia di spaccare, c'avevamo tanta fan. Diversi elementi che si combinano in quel dato momento. Quindi 2016, anno di rottura, game changing. 2016, l'anno della trap. Dal 16 settembre in esclusiva su Discovery+. Alla prossima.